Ciao Z3X, sto toto, ho i giochi da solo per fare un piccolo vlog diciamo per voi. Allora, verso domani sera dovrò andare, vado a registrare il suo agarrio, quindi se volete trovare venite verso il nome del giorno le due. Le due, le tre e mi troverete lì. Poi vi scriverò sotto nei commenti quando ci sarò per venirmi a giocare su agarrio. Mi troverete su Silicon Valley 1 e per entrare per venire il suo agarrio con me dovete installarvi Damper Monkey che sarebbe un gadget per Chrome e in più l'oggetto di Google Chrome, la mod di agarrio. Poi dovete fare, lo so che adesso non vedete però sto facendo un tutorial veloce, dovete fare aggiungere uno script, cancellate lo script che c'è e incollate lo script che sta sotto in descrizione. Comunque poi, non so se il 16 caricherò un altro vlog oppure no perché è il mio compleanno e il 17 dovrei fare un video insieme a Nezzo, Kestrel, Kels se vuole e altri del Film of Deal. Volevo dire questo e chi è arrivato fino a che non si è rotto i coglioni di vedere un'ora. Un'ora, un minuto e 42, chi faccia hashtag io ci sono arrivato. Oh my god. Comunque poi, Platino ragazzi lo porterò sul computer portatile perché sul fisso lagga e mi dà abbastanza fastidio. E quindi, auguri per me intanto perché il 16 luglio è il mio compleanno. Per il 17 è anche meno maschio comunque. Sommettano 100% che sto cliccando in questo video. Comunque, grazie a tutti per essere qui. Qui da Vostrino il Toto. Ciao a tutti. Grazie.